Questo è soft che per ora è stato un po' discutibile, perlomeno sulla durata. In base a quanti giri riusciranno a fare con un passo adeguato prima di fermarsi, quello determinerà poi il numeroso di anche di soft da lì alla fine. Considerando che la Lotus ha un ottimo passo in gara, sei felice? Sì, è vero, ma non sempre. Ci sono delle gare in cui abbiamo un buon passo a gara, altre volte no, vedremo domani. Cercheremo di fare il meglio che possiamo e speriamo di avere la velocità per combattere per la vittoria. Pensi che la Lotus e tu potrete vincere domani? Come ho detto ci proveremo. Grazie.